C'era una volta un giovane ragazzo di nome Marco che viveva in una piccola città nel sud Italia. Marco era un ragazzo molto avventuroso e sempre alla ricerca di nuove esperienze e sfide. Un giorno, mentre camminava lungo il fiume vicino alla sua casa, notò un vecchio misterioso che sembrava cercare qualcosa nella sabbia. Marco si avvicinò per vedere se poteva aiutare il vecchio, con una voce profonda, gli chiese se avesse mai sentito parlare del tesoro nascosto nella caverna del drago. Marco era affascinato dalle parole del vecchio e decise di intraprendere un'avventura per trovare il tesoro. Il vecchio gli diede una mappa e lo avvertì di non andare da solo, ma Marco era troppo impaziente e decise di partire immediatamente. Si avviò verso la montagna e camminò per ore, attraversando campi e boschi. Dopo molte ore di cammino, Marco finalmente raggiunse la base della montagna. La salita fu ripida e pericolosa, ma Marco non si fermò fino a raggiungere la cima. Lì, vide la caverna del drago, ma notò anche che la strada per arrivarci era molto pericolosa. Decise di scendere per cercare un modo più sicuro per raggiungere la caverna. Mentre cercava un percorso alternativo, Marco incontrò un gruppo di banditi che stavano cercando di rubare il suo zaino. Marco, non volendo perdere la mappa, lottò contro i banditi e riuscì a fuggire. Continuò a camminare fino a trovare un sentiero sicuro che lo portò direttamente alla caverna. Quando arrivò alla caverna, Marco notò che la porta era chiusa a chiave. Decise di cercare la chiave e iniziò a esplorare i dintorni della caverna. Dopo molte ore di ricerca, trovò una chiave nascosta tra le rocce vicino alla porta. Quando aprì la porta, trovò una stanza piena di tesori e gemme preziose. Marco era emozionato e cominciò a raccogliere il tesoro, ma improvvisamente sentì un rumore proveniente dalla parte opposta della caverna. Si diresse verso il rumore e trovò un drago addormentato. Il drago era enorme e sembrava molto pericoloso, ma Marco non si arrese e decise di affrontarlo per ottenere il tesoro. Il drago si svegliò e attaccò Marco, ma lui era molto abile con la spada e riuscì a difendersi. Continuò a combattere con il drago per ore, finché finalmente il drago si arrese. Marco prese il tesoro e iniziò il viaggio di ritorno verso casa. Lungo la strada, incontrò molte persone che lo ringraziarono per aver sconfitto il drago e per aver portato il tesoro alla luce. Quando tornò alla sua città natale, Marco distribuì il tesoro tra gli abitanti del villaggio e fu considerato un eroe. Da quel giorno in poi, Marco decise di continuare ad avventurarsi in cerca di nuove sfide e avventure. Viaggiò in tutto il mondo, visitando luoghi esotici e affrontando nuove sfide. Durante uno dei suoi viaggi, Marco incontrò una bellissima principessa che era stata rapita dal malvagio stregone del regno vicino. Marco decise di salvare la principessa e partì immediatamente per il regno del malvagio stregone. Arrivato al regno del stregone, Marco si infiltrò nel castello e trovò la principessa rinchiusa in una cella. Decise di liberarla e iniziò a combattere contro i soldati del re, che tentavano di impedirgli di portare via la principessa. Marco fu molto abile nella lotta e riuscì a sconfiggere i soldati uno per uno. Quando finalmente raggiunsero l'uscita del castello, furono accolti da un grande esercito che li stava aspettando. Marco e la principessa si trovarono circondati e sembrava che non ci fosse via di fuga. Ma Marco non si arrese e iniziò a lottare con tutte le sue forze. Mentre combatteva, notò un punto debole nell'esercito nemico e decise di attaccarlo. Riuscì a distruggere il punto debole, causando una grande confusione tra le truppe nemiche. In quel momento, Marco e la principessa colsero l'occasione per scappare. Fuggirono attraverso la foresta e raggiunsero il villaggio degli elfi. Lì, furono accolti calorosamente dagli elfi, che erano molto grati per l'aiuto che Marco aveva dato loro in passato. Gli elfi li aiutarono a nascondersi e a pianificare la loro fuga dal regno nemico. Dopo molti giorni di preparazione, Marco e la principessa lasciarono il villaggio degli elfi e iniziarono il viaggio di ritorno al loro regno. Lungo la strada, furono costantemente inseguiti dall'esercito nemico, ma Marco era molto abile nella lotta e riuscì a respingere gli attacchi. Finalmente, dopo molte settimane di viaggio, Marco e la principessa arrivarono nel loro regno e furono accolti da un grande applauso e dai ringraziamenti dei loro sudditi. Marco venne nominato cavaliere e la principessa lo scelse come suo cavaliere personale. Da quel momento in poi, Marco visse felice con la sua amata principessa e continuò ad avventurarsi in cerca di nuove sfide e avventure. Fu sempre considerato un eroe dal suo popolo e rimase nella memoria delle persone come uno dei più grandi avventurieri di tutti i tempi.